Sarà presentato questa sera alle 21.30 presso il Palazzo Rinascimentale di Aiete il primo documentario 3D dedicato al piccolo borgo montano della riviera dei Cedri. Come anticipato qualche settimana fa, grazie ad una lunga intervista alla regista tortorese Pietro Laino che ha realizzato il documentario, questo lavoro rappresenta in assoluto la prima opera documentaristica calabrese in terza dimensione. L'utilizzo di questa nuova tecnica, che sta spopolando soprattutto nei cinema, permetterà di interagire direttamente con i luoghi più suggestivi di Aieta, in primis il Palazzo Rinascimentale che potrà essere attraversato e toccato virtualmente. Il documentario ha richiesto ben due anni di lavoro e per la sua realizzazione sono stati impiegati anche tecnici della zona, questo per dimostrare una sinergia concreta di idee. La firma del regista tortorese Pietro Laino, che da anni opera a Roma ma che è sempre attento alla valorizzazione del territorio, è un ulteriore marchio di garanzia. Parliamo di un giovane che ha fatto della cinematografia e della regia la propria ragione di vita. Il documentario vuole essere un omaggio al suo territorio, nello specifico al suggestivo borgo tirrenico che nasconde tra i suoi vicoli storia e tradizione. Il Palazzo Rinascimentale infatti è e rimane uno dei capolavori dell'architettura cinquecentesca del meridione d'Italia. In Calabria soprattutto è la più alta testimonianza di un passato glorioso che rinnovò il settentrione e fece scuola in tutta l'Europa. Ma come spiegato il documentario non sarà incentrato solo sul palazzo, bensì sull'intero borgo. Suggestive anche le riprese effettuate dall'alto con un drone che mettono in rilievo la conformazione del borgo che ricorda un'aquila, Aethos in greco, che oggi è diventata Ieta.